Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa di oggi venerdì 9 di dicembre e ci ritroviamo come tutte le mattine insieme per sfogliare i giornali. Diamo uno sguardo al santo di oggi, oggi la chiesa ricorda un santo che ha avuto una grazia particolare, quella di vedere la Madonna a Guadalupe, insomma siamo nel 1531, sempre nel dicembre del 1531 quando la Madonna apparve a Guadalupe in Messico all'Indio Joan Diego, nato verso il 1474. È stato un incontro che ha cambiato chiaramente la vita di questo Indio che poi dedicò tutta la sua vita, morì a 74 anni, nel 1548 dedicò tutta la sua vita alla preghiera. Il Papa Giovanni Paolo II nel 1990 lo ha dichiarato beato e poi nel 2002 santo. Il sole è sorto alle 7.29, tramonterà alle 16.31. Il tempo oggi avremo cielo inizialmente nuvoloso per nuvole basse sulla fascia costiera settentrionale e a prevalenza sereno invece da altrove. Avremo temperature stazionarie, i venti di brezza leggera. Per domani sabato 10 dicembre, ancora cielo poco nuvoloso, poi temperature stazionarie le minime e indieve aumento invece le massime. Condizioni di tempo stabile e poco evolutive, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Cominciamo a vedere i giornali, la pagina principale, quella nazionale del resto del Carlino, è sulle elezioni. Renzi dice elezioni a giugno, il Premier disegna la strategia, prima scelta Gentiloni, poi Del Rio e infine Padoan. Mattarella stringe i tempi, governo entro il 15, dubbi su Grasso. Poi a centro pagina invece la foto per Draghi, più grande lo scudo BCE nel 2017, altri 540 miliardi sul mercato, Capitan Europa. Andiamo sulle pagine locali, le pagine interne, quella di Fano, del resto del Carlino, via Garibaldi, torna all'antico, l'inaugurazione che c'è stata in centro. Massimo Seri, il sindaco di Fano, dice ora tocca via Cavour e ai giardini di piazza Amiani. Un intervento da 290 mila euro per sostituire l'asfalto con la pietra. Una scritta indica il punto dove c'erano le mura malatestiane. L'ASET ha sostituito le luci con i led. Vedete alcuni momenti di questa bella via, guardate come è diventata. Certamente nulla a che vedere, una bella via che si addice a una città come la nostra, che tende a sottolineare anche l'importanza, le radici, eccetera. Qui il momento del taglio del nastro con il sindaco al centro. Poi, semafori vecchi. Parte il restyling, ironia dei 5 Stelle. Ci sono voluti 16 mila euro, pronti 16 mila euro per togliere tutti i semafori vecchi in città a Fano. Alcuni sono stati addirittura sostituiti. Ecco, quindi l'ironia è su quello che c'è stato in questi ultimi mesi, lo scambio di battute che c'è stato tra i 5 Stelle e in particolare l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, in particolare sui costi di queste operazioni. Motociclista, siamo alla cronaca, Monteporzio sorpassa e si schianta, soccorso in eleambulanza, un 43enne di tre castelli con numerose fratture, un 43enne che si chiama Tristano Buschi, le cui condizioni hanno indotto il personale del 118 a disporre il trasporto in eleambulanza all'ospedale Torrette di Ancone, successo lungo la strada 424 della Val Cesano. Santa Maria Nuova, la chiesa di Fano, inagibile, l'immacolata va in trasferta, la ricorrenza religiosa è stata celebrata in cattedrale, un caso raro davvero, in 5 secoli, non deve essere successo molte altre volte nei 507 anni precedenti che la festa cittadina dell'immacolata dell'8 dicembre sia stata celebrata in un luogo diverso dalla chiesa di Santa Maria Nuova che, come ormai sapete, ha qualche problema dopo le recenti scosse di terremoto. Comuni ricicloni, il cartocetto sale sul podio, noi secondi solo a Mondolfo, nel concorso dominano le vallate del Cesano e del Metauro, stiamo parlando di raccolta differenziata, l'assessore Andreoni dice abbiamo raggiunto il 75%, ora puntiamo all'80%. Poi sopra arriva il Vescovo, ma la fusione non c'entra, Montemaggiore al Metauro, Monsignor Trasarti incontrerà i politici, è un appuntamento in programma per domenica mattina alle ore 9 alla Sala Conferenze del Centro Civico di Villanova di Montemaggiore, è un incontro organizzato dall'Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro, Don Luca Santini che è il portavoce del Vescovo assicura però che non c'è nessun nesso, tra la scelta della location del luogo dove svolgere questo incontro e le recenti vicende legate al procedimento di fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ma chi può escludere che durante i lavori non si finisca appunto per parlare anche di questo. Sanità, i sindacati sempre più preoccupati, questa è la notizia che arriva da Cagli, in riunione con la CGL, Cisle Will e il sindaco, troppi annunci, tanta confusione. E stasera invece la tradizione dei falò per la venuta della Santa Casa da Nazareth a Loreto e allora ci sono i falò, si accendono i falò, i falò che sono stati preparati in queste settimane un po' in ogni dove e anche qua c'è un appuntamento verso le 18 all'imbrunire nelle campagne del nostro entroterra, qui siamo a Cagli, ma ce ne sono veramente tanti in programma anche a Fano dopo cena. L'università in carcere, uno spiraglio di luce, Fossombrone, 85 studenti hanno incontrato i colleghi detenuti, confronto importantissimo, questo progetto offre la possibilità di allargare gli orizzonti in vista del futuro. Cambiamo giornale, adesso andiamo sulla pagina, anzi no vi faccio vedere, scusate, l'ultima del resto del carino, anche la pagina di Pesaro, è tutta per la VIS, per la squadra di calcio cittadina, la squadra di Sassarini gioca un calcio champagne, travolge l'Agnonese, vola con strappa applausi a scena aperta, la VIS si fa in quattro, questa è la foto notizia del Carlino di Pesaro. Dicevo adesso, andiamo a vedere invece il Corriere Adriatico, la crisi di governo non intacca i progetti, siamo a Pesaro, Ricci, il sindaco, sicuro su nuove questura e scuola, ma restano dubbi su via dell'Acquedotto. Obbligati ad allenarci al Gelo di San Decenso, invece pattinaggio senza impianti, appello al comune della società che appunto gestisce questo sport, chiesta la ridistribuzione delle palestre. Questo è il Corriere Adriatico. Poi la cronaca da Monteporzio, frontale contro un'auto, un centauro cade ed è grave, un 43enne in sella alla sua Ducati. Pagine interne, subito andiamo su Fano, nella città dei bambini, la rivoluzione si fa a piedi, la lezione degli spagnoli di Ponte Vedra dove si cammina per 20 minuti al giorno. Vedete questa fotografia dove c'è la delegazione spagnola con il comitato di accoglienza fanese. Il sindaco Seri ha detto, mi impegno ad ascoltare sempre suggerimenti e idee, anche dei bambini, anche dei più piccoli. Questa delegazione straniera è stata ospite a Fano per un convegno sulla mobilità sostenibile. Su Rai 1 l'albero artistico e il presepe di San Marco, servizio della vita indiretta sulle attrazioni natalizie e i mercatini di Monbaroccio. Nuovo arredo invece per via Garibaldi, inaugurato il rifacimento di carreggiate marciapiedi, acceso l'albero di Natale degli esercenti, il prossimo obiettivo è il macchiage di via Cavour dove i commercianti vogliono dire la loro. sotto spesi 250 mila euro per sistemare appunto via Garibaldi, segnalata la linea delle antiche mura e collocati anche nuovi, insomma sistemati un po' gli alberi. È in crescita invece il disagio sociale, come imparare a intercettarlo? Le ACLI avviano un corso per promotori sociali a favore delle attività dei patronati. Poi sotto, o meglio l'altra pagina, quella della Valle del Cesano, lavori volontari per i migranti. Dopo due mesi il Comune è al palo. Una mozione votata dalla minoranza e dalla maggioranza. Pergola Unita dice cosa si aspetta sarebbero utili. L'amministrazione si attivi come già fatto da altri. Mondolfo è solo l'ultimo esempio, cioè quello di far lavorare anche gli immigrati che si trovano ospiti in alcuni comuni della nostra provincia, farli lavorare così. Anche perché poi spesso sono loro stessi che lo chiedono per sentirsi utili, insomma. Ecco, nel Castello di Babbo Natale invece anche qui diretta su Rai 1 ancora fa notizia, nonostante ormai basta girare un video e si è in rete in tutto il mondo, fa notizia comunque la Rai che viene qua e fa i suoi servizi. Beh, comunque, in moto contro un'auto, Centauro a terra, eccolo qua la fotografia della moto rimasta a terra dopo l'incidente del territorio di Monteporzio, soccorso con l'eliambulanza, l'incidente sulla Pergolese, abbiamo visto come purtroppo poi le condizioni hanno costretto i sanitari a trasferire il ferito all'ospedale di Ancona. Senigallia, la pagina di Senigallia, il brodetto alla senigalliese prende gli States per la gola. Becci dell'Italia American Newspaper propone la versione a stelle e a strisce. In alternativa alle vongole e alle cozze sono stati consigliati i cannolicchi pescati nel Pacifico, quindi hanno dovuto giustamente anche rivedere un pochettino la, per una questione proprio logistica, anche la ricetta. Babbo Natale e cioccolato fanno dolci le feste, entra nel vivo il programma Senigallia nelle piazze del centro, tante iniziative in agenda. Sulla questura di Pesaro, la nuova questura, e sulla scuola niente rischi, dice Matteo Ricci, nonostante ormai Matteo Renzi sia ormai alla porta. Per il sindaco la crisi di governo non intaccherà gli investimenti del comune già programmati, più incertezza invece per la riqualificazione di via dell'acquedotto, in ballo anche la legge per Rossini, legge che avrebbe comunque consentito al comune di Pesaro di avere diversi milioni di euro. Ricci dice verificheremo per toglierci i dubbi, sicuri anche i fondi per il campo da rugby. Ok, mi pare che ci siamo, abbiamo più o meno raccontato tutto, vi abbiamo detto tutto, l'ultima pagina, quella di Urbino, la voglio leggere, la prima pagina di Urbino perché riguarda l'ospedale unico. Gambini, che è il sindaco di Urbino, ma che è anche il presidente dell'area vasta, quindi tutti i sindaci della provincia, nega il voto sui siti, ma è smentito. Il presidente respinge la richiesta del sindaco di Fanno Massimo Seri, Mocchi dice in area vasta, disse invece però il contrario. Oltre 20 primi cittadini, oltre 20 sindaci, avevano chiesto di esprimersi sulla localizzazione del nuovo ospedale. Muraglia, una macchinazione a tavolino. Ne è convinto il sindaco di Piobbico, Giorgio Mocchi, appunto, che il sindaco di Piobbico si professa raggirato indignato e sollecita dunque una nuova conferenza. La rassegna stampa si chiude qui, torna domani mattina alle 7.30 in diretta, sempre qui sul canale 17 di Fanno TV. Ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.